Il bilancio positivo della oramai storica collaborazione con la Coldiretti del Friuli Venezia Giulia è l'ennesima iniziativa di un pacchetto ampio di proposte e di realizzazioni che in questi anni abbiamo fatto a favore del mondo agricolo, impegnati sempre di più nei confronti di questo settore economico così importante e così strategico in Friuli Venezia Giulia ma anche in tutto il nord-est ed impegnati ad onorare in maniera particolare il marchio Credi Agricol che fa parte del nostro brand Credi Agricol che porta una storia europea di attenzione al mondo dell'agricoltura e ai valori dell'agricoltura. Il bilancio dei mercati di Campania Amica è un bilancio estremamente positivo a un anno e mezzo dalla partenza devo dire che i risultati sono incoraggianti perché insomma quella che è l'attenzione da parte dei consumatori è un'attenzione molto importante la salubità dei prodotti e il prodotto fresco che mettiamo in commercio tramite i nostri produttori chiaramente è fondamentale stato l'accompagnamento di un partner come Friuli Adela che speriamo anche che negli anni futuri ci accompagni in questo percorso e che ha creduto in un progetto che mette in campo col diretti con una filiera agricola tutta italiana che appunto vuole avvicinare sempre di più quello che è il produttore al consumatore.